Musica Buon pomeriggio, benvenuti al consueto appuntamento con le informazioni di Televomero. Emergenza coronavirus, facciamo il punto sulla situazione. Cresce la preoccupazione per la variante Delta, otto regioni a rischio moderato. Dopo settimane di calo riprendono ad aumentare i casi di Covid in Italia. Nella settimana tra il 30 giugno e il 6 luglio c'è stato un incremento del 5% a fronte di un calo del 24,2% dei ricoveri, del 30,7% degli ingressi in terapia intensiva e del 26,4% dei decessi. In particolare questo in 11 regioni, tra cui la Campania, dove a ieri sono stati registrati 208 casi positivi al Covid su 8.399 tamponi molecolari esaminati, 28 i positivi a Napoli città, di cui 6 vaccinati con la prima dose e 2 anche con la seconda. Proprio sul fronte della campagna vaccinale è stata superata la soglia dei 3,4 milioni di cittadini vaccinati nella regione. Alla chiusura degli hub ieri erano 5.373.025 le somministrazioni effettuate nella nostra regione. Rispetto alla stessa ora di 24 ore prima, 51.461 le somministrazioni in più. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 3.402.258 cittadini. Di questi, 1.970.767 hanno ricevuto anche la seconda dose. Una piantagione di marijuana maxi sequestro in un terreno del sito borbonico a Pompei. Una piantagione di marijuana è stata scoperta dai carabinieri all'interno dell'ex polverificio borbonico a Pompei. Ad attirare l'attenzione dei militari nel corso del quotidiano servizio di controllo del territorio, l'intenso e inconfondibile odore di marijuana. Mediante servizi di osservazione, anche con l'ausilio di droni, i militari hanno accertato la presenza di una fiorente coltivazione che si estendeva su un'area di oltre 2.000 metri quadrati, ricadente tra il polverificio e il locale centro commerciale La Cartiera, adeguatamente irrigata mediante sistemi automatizzati di pompaggio che attingevano direttamente dal vicino fiume Sarno l'acqua. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, i gnoti si sono illecitamente impossessati dell'estesa porzione di terreno demaniale, impiantandovi una coltivazione illecita protetta alla vista dall'esterno da una fitta vegetazione. Nonostante l'accortezza adottata da parte dei malviventi, i carabinieri sono riusciti a loro volta a penetrare all'interno del terreno e a recuperare circa 18.000 piante di marijuana sottratte al mercato illecito degli stupefacenti per complessive 9 tonnellate di peso, oltre a vario materiale per la coltivazione e il confezionamento della marijuana. Siamo in collegamento con il comandante della Polizia Municipale di Napoli, Ciro Esposito. Salve comandante, ben trovato come ogni venerdì. Ben trovati. Allora, prosegue incessantemente l'attività della Polizia Municipale sul territorio, purtroppo da registrare ancora un episodio spiacevole a danni di agenti che quotidianamente cercano di controllare il territorio per i cittadini. Ci racconti questo episodio? Sì, è un episodio molto sgradibile che si è verificato nella scorsa settimana, la notte tra sabato e domenica, quando la centrale operativa ha inviato una nostra pattuglia su Via Roma, perché era presente delle macchie importanti di olio che quindi metteva a serio pericolo l'incolumità soprattutto dei guidatori sulle due ruote. Ebbene, c'è stato il nostro intervento per fare una deviazione di traffico ed evitare che qualcuno ci facesse male. Incredibilmente gli stessi utenti sui mezzi a due ruote in un primo luogo c'è stato un parapiglia con un cittadino che tra le altre cose è noto alle forze dell'ordine che voleva necessariamente passare per quella strada. Poi improvvisamente si è fermato un altro mezzo a due ruote e senza nessun motivo il guidatore è sceso e ha colpito a volto uno dei miei agenti provocandogli la rottura del setto nasale. Ovviamente sono stati individuati entrambi e denunciati dall'autorità giudiziaria, però voglio dire che è la spia di un momento particolarmente critico che stiamo vivendo come comunità in cui dei rappresentanti delle forze dell'ordine lavorano per la collettività, si trovano in un posto per evitare che qualcuno si faccia male e nonostante ciò vengono aggrediti proditoriamente e magari c'è anche qualche altro cittadino che sollecita, che sostiene questo tipo di azioni che sono veramente assolutamente incivili, quindi la solidarietà sicuramente a me ha interagenti, agli altri due, uno ha avuto dieci giorni e l'altro sei, ma il danno maggiore l'ha avuto appunto il dipendente che ha avuto la rottura del setto nasale, stavano semplicemente facendo il loro lavoro di notte, in un fine settimana a tutela dei nostri concittadini, quindi ci vorrebbe come devo dire anche un senso di maggiore senso civico un po' da parte di tutti. Certo, gli auguri di tutta la redazione di Televomero alla gente che appunto è stato colpito mentre svolgeva il suo lavoro, un lavoro difficile nel fine settimana, c'è anche un altro problema, quello dell'alcol che gira tra i giovani, è stata recuperata una ragazzina in coma etilico, proprio sul lungomare, da voi agenti della Polizia Municipale? Sì, sì, anche questo è un altro episodio che si è verificato allo scorso fino a settimana, in cui appunto una ragazza, una minorenne è stata soccorsa e ovviamente accompagnata in ospedale, perché c'era difficoltà a far giungere sul posto l'ambulanza, quindi abbiamo provveduto a caricarla sul nostro rituale accompagnata, è un tema ovviamente con le riaperture che ci sono, che bisogna chi riprende ovviamente di nuovo campo in tutta la sua drammaticità, l'uso ovviamente fuori controllo degli alcol in particolare, noi ci preoccupiamo dei minori, abbiamo individuato anche chi è che l'aveva somministrato, abbiamo anche proceduto nei suoi confronti, però anche quello, mettere a repentaglio la vita di una persona in questo modo è veramente drammatico, in particolare quando poi si tratta di minori, il caso si è fortunatamente concluso in modo positivo, ma dobbiamo stare attenti perché con le tante riaperture, se c'è qualcuno che senza scrupoli somministra in modo fraudolento alcol a chi non deve averlo, è chiaro che nascono una serie di problemi non indifferenti, dobbiamo tutelare i nostri giovani, ovviamente il primo compito spetta alle famiglie, ma accanto a loro ci sono sicuramente le forze dell'ordine e nel fine settimana noi insieme alle altre forze di polizia, le sai abbiamo un piano di coordinamento delle attività, siamo in strada, ma è opportuno che tutti, a partire dagli esercenti, la maggior parte sono scrupolosi e attenti, le famiglie e i stessi ragazzi fanno in modo di non avere questo tipo di problema poi da dover affrontare. Assolutamente, voi state anche lavorando insieme chiaramente a tutti gli organi preposti, all'organizzazione della sicurezza per il G20 che si svolgerà a Napoli il 22 e il 23, un ulteriore carico di lavoro in un periodo particolarmente difficile, tra l'altro il periodo estivo c'è anche il periodo delle ferie con già un organico sicuramente al di sotto del bisogno della città. Sì, tutte queste circostanze che lei elencava ovviamente contribuiscono a rendere ancora più difficile e complicato il nostro compito, però devo dire che ormai si sta lavorando, saremo su eccellenza il prefetto, ha costituito una cabina di legge a cui faccio ovviamente parte anch'io, in cui si sta tentando di programmare tutte le attività in modo da rendere quanto più sicura è possibile la permanenza in città delle tante delegazioni e allo stesso tempo di regare quanto meno disagi è possibile alla cittadinanza, però è chiaro che in quei giorni il 22 e 23 luglio ci saranno ovviamente dei problemi di viabilità in particolare nel centro della città, i luoghi che sono maggiormente interessati all'iniziativa, però si sta lavorando proprio oggi nel pomeriggio un'ulteriore riunione in questura con tutte le articolazioni del Comune per cercare di individuare delle soluzioni che siano quando meno problematiche, ovviamente contemporandole con quelle che sono le esigenze di ordine pubblico che sono state evidenziate dalla Sua Eccellenza del Prefetto, ma anche dai Ministri che partecipano dell'iniziativa, quindi devo dire c'è molta attenzione e molta attesa per un evento che comunque vedrà la città di Napoli al centro delle cronache non soltanto nazionali, ma anche europei, quindi è opportuno che ci si prepari quando è possibile, la città è stata ospite in passato di tanti eventi di natura mondiale, speriamo di dare un'immagine della nostra città sempre positiva anche all'estero. Allora Comandante, a noi non ci resta che augurarvi a tutti, a tutto il personale della Polizia Municipale buon lavoro e sperando che sia un weekend, un fine settimana tranquillo quello che viverà la città di Napoli. Noi ci ritroviamo come sempre venerdì prossimo, arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Siamo al calcio, la rivoluzione, targata Spalletti. A Castelvolturno presentazione ufficiale del nuovo tecnico del Napoli. Dopo un lungo silenzio, Luciano Spalletti svela le sue prime mosse del Napoli che verrà, perché ha scelto proprio la città di Napoli dopo due anni di fermo, orgoglioso dopo aver allenato la Roma, l'Inter e il San Pietroburgo di guidare la squadra dove ha giocato Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi. Allora, il Napoli è una squadra forte e sono curioso di entrarci dentro il prima possibile per vedere fino in fondo quanto ne è consapevole, perché poi essere forte se non sai di esserlo a volte non completa quello che deve essere il tuo comportamento. Per cui questa è una cosa che mi renderò conto strada facendo, perché da quando me l'hanno detto che sarei stato l'allenatore del Napoli non gli ho levato gli occhi di dosso mai a questa squadra. Le ambizioni sono quelle di riconquistare un posto in Champions League, vale a dire il calcio che conta, ma la società deve prima far quadrare i conti. e è chiaro che, dopo è venuta fuori la dichiarazione, che io terrei volentieri tutti i calciatori che ho a disposizione perché sarei contento così, mi basterebbe così. Tutto questo era un tentativo di fare un complimento a tutti quelli che ci hanno lavorato e a tutti quelli che l'hanno creata, questa squadra qui, perché effettivamente è una squadra forte. Poi sappiamo che per contratti scadenza, che per il Covid, che per tante questioni che poi sono subentrate, il prossimo Napoli, probabilmente anche a conseguenza di quello che ha detto il Presidente, sarà un differente da quelli precedenti. Però poi noi siamo qui per questo, per tentare di costruirne un altro altrettanto forte. Siamo in collegamento con Sergio D'Angelo, Presidente dell'Imprese Sociali, Gesco. Salve, grazie per aver accettato l'invito a collegarsi con noi. Ben trovato, Presidente. Grazie a voi per l'invito. Allora, Presidente, una festa aperta alla città per celebrare 30 anni di attività. Un compleanno importante dove naturalmente era d'obbligo tracciare dei bilanci e analizzare le prospettive future. Beh, insomma, una festa della città, non semplicemente una festa con la città, perché 30 anni di storia hanno intrecciato relazioni, vite, famiglie di tanti napoletani. Gesco oggi non è semplicemente il primo gruppo del settore privato per numero di occupati. E di questo non bisognerebbe mai rallegrarsene, perché appunto noi siamo nati in un tempo in cui ancora esisteva l'olivetti, la legna, l'italcider, la cement, esistevano grandi fabbriche e insediamenti industriali. Adesso non ci sono più, noi siamo rimasti. E quindi una storia così lunga diventa necessariamente, per forza di cose, anche se non avessimo voluto, la storia in parte anche della città, un'istituzione percepita come patrimonio non semplicemente di chi ha contribuito a realizzarlo, ma anche della stessa città. Noi ci siamo occupati in questi 30 anni davvero di tutto quello che era immaginabile progettare, inventarsi nel sistema di aiuto alle persone in difficoltà, nel sistema di welfare di prossimità, quindi dai bambini agli anziani, giovani, donne, immigrati, sofferenti psichiatrici. E poi via via abbiamo preso ad occuparci anche di agio e quindi di formazione, di cultura, di mobilità sostenibile, di ristorazione, di tempo libero, di ambiente, di rifiuti. Noi ci occupiamo della vita delle persone, in qualche misura proviamo a dare un contributo perché questa possa migliorare. E lo facciamo sia dando occasioni di lavoro, in genere a giovani che dispongono anche di competenze di pregio, ma altrettanto frequentemente anche a persone in difficoltà, persone che vivono in una condizione di particolare disagio e che a seguito di questo disagio magari hanno dovuto sospendere il proprio percorso formativo e mai avrebbero potuto incontrare questo difficile mercato del lavoro. Quindi ex-tossicodipendenti piuttosto che detenuti ed ex-detenuti lavorano con noi facendo quello che hanno imparato a fare nel proprio percorso di recupero e di riabilitazione. Certo, avete fatto un ottimo lavoro proprio sui fragili, a sostegno dei fragili. È stata una festa molto partecipata. Veramente, forse al di là di ogni aspettativa, quanto è stato difficile il periodo Covid, il lockdown, dove le difficoltà naturalmente per le categorie fragili sono aumentate a dismisura e gli effetti si sentono ancora oggi e purtroppo si sentiranno anche domani? È stato difficile soprattutto per le famiglie che erano già in difficoltà e ormai si tratta di centinaia di migliaia di napoletani che vivono già una condizione di difficoltà e di precarietà esistenziale che si è vista aggravata dalla pandemia, che sappiamo essere stata un'emergenza sanitaria, non priva oggi di conseguenze sociali ed economiche che stiamo incominciando ad apprezzare. Però mi lasci dire che noi abbiamo dato un contributo non da soli, siamo partiti forse tra i primi ad offrire i primi aiuti alle famiglie, alle persone in difficoltà, ma poi ci sono moltiplicate straordinariamente iniziative di solidarietà e reti civiche che ci sono messe a disposizione e senza il cui contributo difficilmente lo Stato ce l'avrebbe fatto. Insomma è stata una lezione di vita credo per tutta la comunità e anche per la politica che dovrebbe trarre qualche insegnamento dallo straordinario valore e dal contributo preziosissimo che viene da queste organizzazioni che davvero contribuiscono ad esprimere anche forme di allargamento dello spazio pubblico e non si tratta semplicemente di soggetti privati, si tratta di soggetti ancorché organizzati sulla base di un diritto privatistico ma che perseguono davvero obiettivi di interesse generale. Certo, a questo anno e mezzo così difficile si è capita l'importanza anche di queste realtà che operano sui territori. Lei è candidato a sindaco per Napoli alle prossime elezioni amministrative, ogni giorno esce una notizia sulla sua possibile rinuncia a questa candidatura, lei invece è stato chiaro, dice io andrò avanti, ho un progetto di città che voglio assolutamente portare avanti, saranno poi gli elettori a premiarmi o meno. Quanta esperienza di ciò che ha fatto in questi 30 anni a Raggesco porterebbe nella vita amministrativa? Tanta, davvero una straordinaria esperienza, ma lo voglio dire con parole semplici, io credo che la politica riguardi il tentativo di ricercare soluzioni collettivamente ai problemi individuali delle persone, esattamente quello che accade nella sociale. Noi questo è quello che abbiamo fatto, se la politica attraesse insegnamento da queste importanti pratiche sociali forse renderebbe un servizio alle comunità che amministra, alle città e ai territori che amministra, ma voglio dire anche un'altra cosa, noi non ci siamo occupati solo degli ultimi e delle persone più fragili, perché ogni volta che ci si occupa delle persone fragili e degli ultimi ci si occupa davvero dell'intera comunità, perché senza un investimento sugli ultimi, col che si tratti di una minoranza, ma è una minoranza sempre crescente, sempre più consistente e noi davvero ci occupiamo dell'interesse generale, perché se qualche centinaia di milioni, di migliaia di persone vivono una condizione di disagio, di infelicità, di malessere e quindi di rabbia, che è la cosa più contagiosa ancora del Covid, insomma quello che può accadere è che quella condizione di precarietà esistenziale minaccia anche la condizione di maggiore benessere, di aggetezza di tante altre persone e perché insomma non si vive più bene, viene a mancare il principio della coesione e tanta gente arrabbiata, insomma rende impossibile, impraticabile qualsiasi progetto di sviluppo, per questo io sostengo, non per la sensibilità politica che ho sviluppato in questi 40 anni di esperienza, che il sociale viene prima di ogni cosa, se abbiamo in mente un progetto di sviluppo, di ripresa economica di un territorio, di una città, occorre ricordarsi che le prime cose da farsi è mettere un po' più in pari le persone e quindi fare un investimento sociale importante, da questo punto di vista non ci vogliono più risorse, ci vuole un approccio culturalmente completamente diverso rispetto a quello del passato, le politiche per i debili non sono politiche deboli, devono essere politiche robuste, solidissime che riguardano non solo i deboli ma l'intera collettività. Quindi possiamo ribadire anche ai nostri telespettatori che Sergio D'Angelo andrà avanti indipendentemente dal candidato Manfredi, dalla candidata Clemente, dal candidato Antonio Bassolino e naturalmente Catellu Marisca che in qualche modo ha fatto quadrato con il centro-destra. Andiamo avanti e non escludiamo, se qualcuno, ma all'orizzonte non vediamo far capolino nessuna di queste ipotesi, se tuttavia vi fosse un progetto più convincente, più inclusivo, più robusto che noi possiamo decidere di sostenere, vale a dire se qualcuno intendesse prendersi la responsabilità di ciò che stiamo portando avanti, i progetti, il modo con cui li portiamo avanti, politiche fatte con le persone, non semplicemente per le persone, noi saremmo disponibili a considerare la collaborazione con chi che sia da questo punto di vista. Quindi praticamente voi aspettate prima i programmi al di là dei candidati per poi prendere una decisione definitiva, mi pare di capire? Ma noi conosciamo i nostri programmi, credo che se io, ritualmente, dovessi farle una domanda e chiederle conto dei programmi dei miei avversari, lei non saprebbe come sintetizzare le proposte dei miei avversari, perché in realtà si parla molto, ma si fa molto ricorso alla consuetta ritorica tipica delle campagne elettorali, si fa l'elenco dei problemi, ma non si stabilisce la sequenza delle priorità, come si intendono intercettare le risorse e le opportunità e come si intendono anche trattare queste priorità. Non l'ho sentito ancora bene. Noi la ringraziamo per essere stato in collegamento con noi, in bocca al lupo per la campagna elettorale, naturalmente a Gui e complimenti a Gesco, imprese sociali. Arrivederci. Grazie, grazie, buongiorno. La squadra della Napoli Basket, promossa in serie A1 dopo 13 anni, viene premiata al Comune di Napoli in una cerimonia al maschio angioino, l'attisala dei baroni. Dopo 13 anni il Napoli Basket ha conquistato la Serie A dopo una cavalcata trionfale che ha visto anche la vittoria della Coppa Italia di categoria. Un'annata complicata per tutte le società a causa delle restrizioni imposte dal Covid e che ha visto tornare il pubblico al pala barbuto soltanto in occasione dei play-off, della promozione. I rappresentanti della società sono stati premiati nella sala dei baroni del maschio angioino di Napoli, alla presenza dell'assessore allo sport Ciro Borriello e del sindaco Luigi De Magistris. Siamo stati sempre vicini al Basket Napoli perché ne abbiamo seguito le difficoltà, la voglia di riscatto, la professionalità, la serietà della società, la meticolosità, la programmazione. Abbiamo lavorato insieme bene anche sull'impianto in cui si gioca, ancora meglio lo dovremo fare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Questo è un risultato che dà ragione non solo a chi ha investito in questa squadra, ai giocatori, allo sport di Napoli, ma anche a una bella pagina di cooperazione tra il comune e in questo caso Napoli Basket, ma in generale con l'associazionismo sportivo e con le federeazioni sportive di questa città. Abbiamo ascoltato il presidente della Napoli Basket, Federico Grassi. Noi speriamo l'anno prossimo di fare una stagione innanzitutto, speriamo che il Covid ci possa abbandonare e ci possa dare la possibilità di avere tutto il nostro pubblico all'interno del palazzetto. Io credo che l'anno prossimo sarà un anno dove il pubblico ci serve perché noi sicuramente continuiamo a fare piccoli passi, io non penso di fare un anno giusto, senza problemi e fondamentalmente per salvarci l'anno prossimo. Secondo me le grandi scalate vanno fatte in maniera lenta, quindi io spero che con l'aiuto del pubblico l'anno prossimo possiamo creare un fortino a Napoli che ci permette di avere una salvezza tranquilla, poi potrebbero in altre cose, però diciamo partendo da una salvezza tranquilla e poi piano piano continuare nella scalata che stiamo facendo. Fino al 19 settembre 2021 la residenza artistica Sharing Art nel cuore del parco archeologico di Pompei apre le porte alla prima edizione di Sharing Art Pompei Events 2021. Il progetto punta a rafforzare l'idea di essere l'unica residenza artistica immersa in un contesto archeologico della regione Campania con lo scopo di affermarsi come polo artistico e attrazione turistica. Sharing Art è un luogo dove è possibile fare ricerca e sperimentazione attraverso masterclass e seminari di alta formazione e specializzazione nelle discipline del canto, della recitazione, della danza, della musica. Quest'anno però il calendario estivo si arricchisce con i Pompei Events, una serie di eventi culturali tra cui riassegne teatrali, eventi di danza, un premio letterario, installazioni artistiche, presentazioni di libri, concerti, un festival di corti cinematografici e un talent per comici. A parlarci del programma la direttrice gestionale Solange Corso. Abbiamo aperto questo spazio dedicato sia ad attori con masterclass e a degli eventi che sono stati intitolati Pompei Events perché parliamo di culture, cultura, music, short movie, comedy. Abbiamo organizzato un festival per dei comici e dei cortimetraggi provenienti da tutta Italia. La filosofia di Sharing Art Pompei si differenzia dalla precedente edizione che nasceva in un momento di pandemia per dare la possibilità ad un gruppo di artisti di provare a sperimentare nuovi linguaggi teatrali per una nuova ripartenza. Questo è il pensiero del direttore artistico Luca Varone. Noi daremo la possibilità ad attori professionisti di allenarsi. Ebbene, se l'anno scorso è stato il momento della solidarietà per la Climax Theater Company che ha fondato lo Sharing Art, quest'anno a nostro avviso è il momento dell'allenamento perché questo anno e mezzo di stop non ha dato la possibilità a tantissimi artisti di poter usare il loro strumento principale, ovvero il corpo. È possibile seguire i nostri programmi anche in streaming, scaricare la nostra app Televomero sui vostri dispositivi mobili sia iOS che Android, visitare il nostro sito www.televomero.it e interagire con noi attraverso i canali social Facebook, Youtube, Twitter, Instagram. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi. Un piacevole pomeriggio, ci ritroviamo come di consueto nelle prossime edizioni di Televomero Notizie. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.